Via Piave ad Agropoli si rifà il look, a deciderlo con delibera di giunta e l'amministrazione comunale su proposta del sindaco Adamo Coppola. L'arteria rappresenta uno dei principali collegamenti con la centralissima piazza Vittorio Veneto e Corso Garibaldi. La passata pedonalizzazione del centro cittadino, resa possibile dalla nuova distribuzione ed espansione sia urbana che via aria, ha deviato il traffico veicolare lasciando pedonale l'ultimo tratto di Via Piave. La decisione nasce dall'esigenza di effettuare una riqualificazione, valorizzazione e caratterizzazione di Via Piave attraverso una diversa distribuzione degli spazi pedonali con la rimozione delle fioriere esistenti e con il rifacimento della pavimentazione identica a quella esistente perché in alcuni punti sconnessi e rovinati. Inoltre lungo il suddetto tratto vi sono delle fioriere in muratura che fungono anche da sedute disposte al centro del percorso limitando però in parte la fruibilità dello spazio. Per questo motivo fanno sapere da Palazzo di Città si procederà nelle prossime settimane all'avvio dei lavori. Il costo complessivo è pari a 15.000 euro.